Dove rivolgi il tuo pensiero, là vivi la tua vita. Srotola il tuo tappetino. Portati comodamente seduto con la schiena dritta, gambe incrociate. E porta la tua attenzione al tuo corpo e al tuo respiro. E poi inizia a ruotare il collo, l'orecchio destro, cerca la spalla destra, inspira. Quando sei al centro, espira l'orecchio sinistro, cerca la spalla sinistra. E poi ancora, inspirando ed espirando. E poi cambia verso, inspira, espira e ritorno. Fai movimenti lenti e consapevoli. E ritorna al centro. Ora porta le tue mani sulle spalle. Avvicina i gomiti. Quando apri, inspiri e quando chiudi, espiri. Sciogliamo le spalle. Inspira, apri e espira, chiudi. E poi cambia verso. Sempre apri, inspiri e espiri, chiudi. Quando allontani i gomiti, inspiri, espiri e avvicini i gomiti. E sciogli. Allunga le braccia, allunga la schiena. E espirando, porta le mani a terra. Distendi le gambe al tappetino. Afferra la gamba destra. Con la mano destra afferra il ginocchio destro. Con la mano sinistra il piede. E inizia a disegnare dei cerchi con il ginocchio. E ora, disegna dei cerchi con il piede. Sciogliamo anca e ginocchio. Passa la gamba sinistra. Afferra il ginocchio sinistro e il piede sinistro. E disegna dei cerchietti con il ginocchio sinistro. E ora, afferra il retro del ginocchio e disegna dei cerchi con il piede sinistro. Sciogliamo il ginocchio sinistro. Allungati, inspira. E espira giù. Piega il piede destro e poi il sinistro in maniera alternata, ispirando ed espirando. Inspira e espira dal naso. E ora ci portiamo a quattro zampe nella posizione del gatto. le spalle sono esattamente sopra i polsi. E le ginocchia sotto le anche. Ora, inspira in arca. Guarda verso l'alto. Ed espirando curva la schiena. Guarda l'ombelico. E poi ancora, inspira in arca. Lo sguardo va in alto. Le spalle indietro. Ed espira. Risucchia l'ombelico verso la colonna. Curva la schiena. Proprio come fa un gatto quando si stira. E poi ritorna in posizione neutra della schiena. Allunga le braccia. Porta gli avambracci a terra. E tutto il corpo a terra con la pancia a terra. E rimani con il petto sollevato nella posizione della spinge. Le spalle sono sempre lontane dalle orecchie. E poi scendi a terra con tutto il corpo. La fronte a terra. Porta le mani fuori dai lati del tappetino. E inspirando solleva il petto. E espirando giù. Ancora uno. Tieni leggermente i glutei stretti. Inspira, vieni su. Ed espirando giù. Cerca di non staccare i piedi da terra. E ora le mani vanno sotto le spalle. E di nuovo. E di nuovo, ispirando, vieni su. Nel cobra. Prova di stendere un pochino più le braccia. Nel rispetto del tuo corpo. E espira giù. Premiti su mani e ginocchia. Prova a staccare le ginocchia da terra. E cane a faccia in su. Ed espirando. Vai nella posizione del bambino. Balasana. Appoggiando i glutei sui talloni. Se i tuoi glutei non toccano i talloni. Puoi portare le mani a pugno. Una sopra l'altra. E appoggiare la fronte. Questa posizione puoi prenderla in ogni momento in cui ti senti di dover recuperare. Oppure ti senti un po' affannato. E ora, ispirando, ritorna alla posizione del gatto. A quattro zampe. Punta gli avampiedi. Premi bene le mani sul tappeto. E stacca leggermente le ginocchia. E lentamente prova a proiettare i glutei verso l'alto. Sempre con una pressione delle mani al tappeto. Le dita sono ben attaccate al tappetino. E prova a prendere il tuo primo cane a faccia in giù. Pedalando un po' la posizione. Piega il ginocchio destro. E distendi il sinistro. E viceversa. E continua così. Inspirando ed espirando dal naso. Rilassa il collo. Lo sguardo è verso l'ombelico. E ancora inspira ed espira. Movimenti dolci. I glutei puntano verso l'alto. Le orecchie sono sempre lontane dalle spalle. E ora inspira e solleva i talloni. E lentamente, a piccoli passi, porta i piedi in mezzo alle mani. Non è necessario che tu arrivi a gambe tese. Poi lasciare le ginocchia piegate. E quando sei lì, inspira ed istendi la schiena. Oppure porta le mani sotto le ginocchia, sulle tibie. Espira giù. Abbandona il corpo. Afferra i gomiti. O incrocia le braccia. E lascia andare tutta la parte superiore del corpo verso terra. Dondola un po'. Il peso è leggermente più sulle punte dei piedi. E poi inspira, distendi di nuovo la schiena. E espira giù. E ora preparati a venire su. Inspira, distendi le braccia al cielo. Ed espirando, chiudi. Le mani vanno in preghiera di fronte al cuore. Rimani un respiro qua. E ora ci prepariamo per un flow. Vediamo prima le posizioni separate. E poi le uniamo. Inspira, apriti a destra. E apri il piede destro. Apri le braccia. Piega il ginocchio destro nella posizione del guerriero 2. Se è difficile a mantenere questa posizione, puoi portarti col ginocchio sinistro a terra. e prendere il guerriero 2 facilitato. È la stessa cosa. Il bacino è comunque aperto. Il ginocchio è esattamente sopra la caviglia. Non andare oltre. Se no, ritorna nel guerriero 2 completo. Respira. Distendi la gamba destra. Chiudi un po' la posizione se ti va. Ed espirando, slitta con il fianco e scendi con la mano destra verso il piede destro. Se è troppo, sali un pochino. Cerca solo di non chiudere il petto, ma mandare sempre il coccige verso il terreno, quella codina in mezzo alle gambe. e aprire il petto. E inspira, ritorna. Chiudi destro e apri sinistro. Lo vediamo dall'altra parte. Pieghi al ginocchio sinistro e guerriero 2. Virabhadrasana 2. Il taglio esterno del piede dietro, disteso, è bene aderente al terreno. Le braccia sono in linea. Il corpo è al centro. Distendi la gamba. Inspira. Ed espirando, scendi con la mano sinistra, sulla tibia, sinistra o sulla caviglia, sul piede o addirittura al tappetino. Se non hai problemi al collo puoi guardare in alto. Il mento però è sempre richiamato al petto e il respiro avviene in modo lento e profondo sempre dal naso. Piega un pochino la gamba e ispirando usa gli addominali e vieni su. E poi chiudi la posizione e ritorna in cima al tuo tappetino. Un respiro qua. E ora le uniamo in un respiro. inspira inspira distenditi espira giù tocca il tappetino con le mani se non riesci a gambe tese piega le ginocchia. Espira vieni indietro con i piedi appoggia le ginocchia andiamo in un piegamento piega i gomiti stretti al corpo e indietro ed espirando vieni giù pancia a terra inspira cobra su con il petto e espira cane a faccia in giù distendi la gamba destra al cielo senza aprire l'anca ed espirando prova a portare il piede in mezzo alle mani non per forza in un unico passo puoi aiutarti con la mano inspira vieni su nel guerriero 2 espira affonda inspira distendi la gamba destra e espira scendi nel triangolo trikonasana ritorna con le mani a terra piede destro dietro piegamento con senza ginocchia inspira vieni su nel cobra espira punta gli avampiedi e cane a faccia in giù la gamba sinistra va in alto inspirando ed espirando il piede va in mezzo alle mani ruota destro su nel guerriero 2 distendi la gamba sinistra inspirando ed espirando slitta in avanti prima e scendi nel triangolo riporta le mani a terra piede sinistro dietro piegamento e espirando inspira su cobra o cana faccia in su la differenza è che il bacino e le ginocchia sono staccate da terra nel cobra sono a terra cana faccia in giù espira mantieni qualche respiro inspira solleva i talloni ed espirando i piedi vanno in mezzo alle mani distendi bene la schiena inspira espira porta la fronte e il naso verso le ginocchia e ora tutto su inspira distenditi bene espira chiudi angeli mudra le mani in preghiera di fronte al cuore vediamo un po' l'equilibrio una delle posizioni principali dello yoga l'albero radicati bene con il piede sinistro prova a staccare il piede destro e a portarlo sopra il sinistro senti come il tuo equilibrio qua se è stabile puoi provare a portare il piede destro sul polpaccio oppure completare la posizione portando il piede destro all'interno della coscia sinistra e il tallone tocca l'inguine l'importante è che non porti il piede a livello del ginocchio quindi o sull'altro piede o polpaccio o interno coscia le tue radici sono forti come quelle di un albero fissa un punto se vuoi puoi distendere le braccia al cielo ed espirando scendi e sciogli la posizione ascolta un attimo la differenza da un lato e dall'altro e poi prova dall'altra parte affera il ginocchio apri l'anca e appoggia l'interno il piede all'interno della coscia o sul polpaccio e rimani non ti preoccupare se questa posizione non ti viene subito inspira e espira giù ascolta il tuo corpo e sciogli inspira solleva le braccia espira scendi mani a terra fronte verso le ginocchia inspira distendi la schiena espira piedi dietro nella posizione della tavola con senza ginocchia ispirando scendi inspira cobra o cane a faccia in su e espira cane a faccia in giù e porta le ginocchia a terra e ci andiamo a sedere recupera un attimo qui nella posizione dell'eroe virasana e poi accompagnati su un fianco e distendi le gambe lega le ginocchia e afferra gli alluci o le caviglie e lentamente inizia a distendere le gambe la schiena rimane dritta se senti che distendendo le gambe la schiena inizia a curvarsi fermati lì se no puoi continuare espirando inspira distendi ed espira provi a andare un pochino più giù o a distendere un pochino di più le gambe lo sguardo lo sguardo verso i piedi e non alle ginocchia e ora inspirati distendi di nuovo ed espirando sciogli solleva le braccia distendi bene la schiena ed espirando giù le mani a terra e poi inspira porta le mani a coppa dietro i glutei distanti qualche centimetro e apri bene il petto e poi aiutati con gli avambracci a portarti con la schiena a terra sul dorso accompagna la testa a terra allunga bene le cervicali e porta i piedi i talloni vicino ai glutei inspira ed espirando appiattisci bene la schiena al terreno e andiamo nel mezzo ponte in setu bandasana inspira sali col bacino ed espirando scendi sempre schiena piatta al terreno espirando e di nuovo inspira vieni su con il bacino prova a salire un pochino di più se riesci sempre nel rispetto del tuo corpo e se te la senti puoi incrociare le mani sotto i glutei respira ed espirando dolcemente giù scendi con i glutei a terra se vuoi puoi provare ad afferrare le caviglie se no puoi ripetere quella di prima e ancora inspira su ed espirando ed espirando giù e poi una gamba alla volta piega il ginocchio piega l'altro e afferrati le ginocchia al petto impavana muttasana inspira distendi le braccia e espira porta bene le ginocchia attaccate al petto e ancora inspira distendi e espira chiuditi bene se riesci le mani sono incrociate sopra le ginocchia inspira e espira e poi rimani un po' con le ginocchia abbracciate al petto se ti va dondola un po' afferra solo il ginocchio destro e distendi la gamba sinistra a terra ci prepariamo per una torsione inspira ed espirando accompagna la tua gamba destra il ginocchio destro oltre la gamba sinistra verso terra non è necessario che il ginocchio tocchi terra puoi fare un po' di pressione iniziale con la mano sinistra e poi rilassare la posizione e se ti va ruota la testa e lo sguardo va verso la mano destra puoi già chiudere gli occhi e rilassarti qui e poi inspirando riporta prima la testa al centro e poi il ginocchio e distendi il braccio sinistro oltre la testa e senti tutto il lato sinistro che si allunga dalla gamba dal piede al braccio e la mano e ritorna e ora piega la gamba sinistra il ginocchio sinistro va al petto e la gamba destra si distende ripetiamo dall'altro lato inspira ed espirando accompagna il tuo ginocchio sinistro verso terra oltre la gamba destra in torsione e se ti va ruota il collo la testa verso sinistra in queste posizioni puoi permetterti di rilassarti e ascoltare dove va il tuo respiro se riesci inspira ed espira sempre dal naso e cerca di allungare un pochino il tuo respiro ritorna con la testa al centro prima inspirando e poi con il ginocchio afferro con la mano sinistra e allunga tutto il lato destro e poi ritorna distenditi bene e ora ti puoi sistemare per la posizione del cadavere Shavasana le gambe si aprono leggermente le braccia si distaccano dai lati del corpo i piedi cadono lateralmente verso l'esterno palmi delle mani sono rivolti al cielo oppure puoi portare prima una mano e l'altra sulla pancia per sentire per sentire il respiro addominale la pancia che sale e scende e poi riporta le mani a terra cerca cerca di tenere il collo con la cervicale allungata quindi la nuca bene a terra e il mento è sempre richiamato al petto chiudi gli occhi e non devi fare più niente solo rilassarti il corpo si fa pesante al terreno c'è immobilità rilassa il viso i lati della bocca cadono verso le orecchie e si forma un sorriso naturale gli occhi scendono verso le tempie e si rilassano la fronte si rilassa tieni la mandibola separata e stacca la lingua dal palato tutto il corpo si rilassa il respiro è tornato naturale rilassati grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora lentamente ritorna. Inizia a muovere mani e piedi, ruota, le caviglie e i polsi. E allunga le braccia, oltre la testa, come se ti fossi appena svegliato. Distendi bene tutto il corpo. Un ginocchio al petto, poi l'altro, afferrale e concediti ancora un massaggino. Per poi accompagnarti sul fianco destro. Rimani ancora un attimino qui, ancora con gli occhi chiusi e poi aiutandoti con le mani, piano piano, ritorna nella tua posizione seduta. A gambe incrociate, con la schiena dritta e rilassata, le spalle rilassate e le mani al cuore, in un gesto di gratitudine. Inspira, inspira, inspira. Grazie.